ragazzi ci siete? aspetto un altro paio di secondi per far connettere più persone possibile e cominciamo allora indovinate un po' dove sono intanto vi do qualche indizio piccolo sono fuori la casetta dei bianchi oggi faremo un giro in entrambe le casette quindi sia dai bianchi che dai blu e io inizierai subito a questo punto dato che siamo in prossimità della casetta bianca ad andare dai bianchi seguitemi andiamo a vedere cosa stanno facendo ragazzi buonsoir come state? cosa state giocando? non si può dire guarda che bello guardate lo scatolo bello che scappa bene bene così in orizzontale funziona ma io devo leggere le domande così come state? bene tutto abbastanza bene mi voglio dire che si spregano i like e i pollicioli salutami allora salutiamo tutti facciamo un saluto generico a tutte le persone che sono connesse in questo momento ciao a tutti ciao a tutti perché altrimenti finiamo per fare solo saluto qualcuno dice al solito gioco che stavate giocando al solito gioco al solito gioco? evidentemente qualcuno che vi conosce già molto bene qualcuno la sa già e mi dico Debora mi ha detto che siete straordinari grazie Debora comunque mi sa che conoscono già il giochiero anche se no wow questo è bello Mike Martina Lima ti chiede se potessi scegliere una canzone come colonna sonora della tua vita quale sarebbe? tifo per te sempre ah ok grazie non lo so può essere Sunday Morning dei Velvet Underground Sunday Morning non abbiamo una chitarra ma c'era la chitarra no però mi ha detto che è forte ah perfetto c'è una pippa seba sei una potenza Marta grazie mille Marta molto molto locuace nel nostro spazio siamo vicini alla finale emozioni? come vi sentite? davvero strani io nel senso che cioè spero di arrivare fino in fondo e però allo stesso tempo so che comunque manca ancora un po' io per adesso sto pensando alla semifinale però mi piacerebbe un sacco arrivare fino in fondo siete stanchi? no io un po' provate io un po' stanco sì però è giusto ci sta prendiamo qualche altra domanda uh non vicino eh? prendo così così vediamo guardate come ci sono rimasti poi tra l'altro solo due uomini vorrei far notare l'ordine l'ordine che c'è in casa no ma in questa zona questa zona lì che c'è sono tutte cose poco identificate non ben identificate ah sì residui vari eeeh pepepe ci chiedono nel libro se l'avete letto se avete scoperto chi è il leone alla fine leone eeeh mike no non sono io leone purtroppo però seba tu pensi sia mike davvero? no ma no pensavo no ma ti fai no no fa che tempo di scrivere libri io leone è seba la notte quando rossa fa eh tu parli nel sonno eh ma pure ma dormite nella stessa stanza comunque anche se siete rimasti solo in due sì tutto cioè nel senso solo in tre ma pure ragazzi volevo dire dormite tutti cioè se non ci sono più donne dormite tutti comunque nella stessa questo intendevo dire beh se va più o meno è come avere una donna no perché la camera delle donne è inutilizzata potreste allargarvi quantomeno no vi affezionate ai vostri letti ormai sì ormai le vostre vi costa troppo spostare la roba diciamo sì perché se vado di là mi sento da solo quindi preferisco dormire con qualcuno con tutti ok coreografia preferita? mike ovviamente coreografia preferita ce ne sono state un sacco belle che mi sono piaciute tanto adesso la prima che mi viene in mente è Joker però anche Leonardo da Vinci è stata molto bella molto bella invece che cosa che è successo? aspetta leggiamo un'altra domanda beh puoi dirlo che Joker ti piaceva solo perché ballare in mezzo a 5 tip e in verità era un 6 però ecco ah vedi se ne ricorda bene però ok allora è il momento di salutare perché noi proseguiamo il nostro giro quindi salutate ciao a tutti ciao a tutti bacione dalla casa bianca un bacione guardate che entusiasmo due ottantenni bene ciao ragazzi io continuo guarda la gente che scappa se succede un macello guardate usciamo usciamo dalla casetta bianca per andare in quella dei blu non so sinceramente chi troveremo perché ovviamente vi faccio vedere una cosa questo che vedete qui questo qui enorme è lo studio del serale e noi chiamiamo T8 cioè teatro 8 ogni volta che ci chiamano per provare delle cose in studio sul palco del serale ci viene la la solita convocazione tutti al T8 e quindi si corre al T8 mentre di lì ci sono gli altri studi T7 e T5 dove ci sono insomma dove facciamo il programma in day time se non mi investono adesso andiamo in casetta di oggi a Roma il tempo non è bellissimo non c'è tanto sole però noi fortunatamente lavoriamo come potete vedere anche immersi nel verde tra un palazzo e l'altro tra uno studio e l'altro c'è tanto verde siamo quasi vicino alla casetta di blu eccoci qua siamo arrivati allora entriamo dai blu sperando di trovare qualcuno potrebbero anche essere tutti a lezione magari qualche superstito qui fuori al salottino guardate chi c'è ciao buonasera 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 aspettate vi vedete mi dovete abbassare troppo vediamo è gigante così meglio molto meglio i blu i blu ciao il tempo è scirocco si fa schifo il tempo ma cosa vuol dire il tempo è scirocco eh no perché stavo stavo parlando del più e del meno fuori e vente io ti parli il blu come il tempo che non era proprio il massimo andreas andreas non c'è però andreas è a lezione andreas è a lezione mi dispiace vieni stai pronto ciao claudia ciao dai vince tu chi è che vince andreas andreas non c'è ragazzi se volete gli riporteremo le vostre domande grazie angelica fede e ricchi baci baci che fate rilio ha un altro pezzo preferito non lo so sì sono di Pessano è vero fede abbi più fiducia in te stessa chi è chiara ma quanto bravo fede che sei già io non le ho mai fatte perché se non le ho mai fatte le dirette io sono io sono in imbarazzo perché non le ho mai fatte le dirette io le facevo professionisti la sera però ce la faccio enorme su sto cosa sono troppo veloce questa qua possiamo rispondere come è che fai così però poi scalano tutte le altre non fa in tempo allora che consiglio date a tutti coloro che sperano ad entrare nella scuola di amici avete letto il libro cosa ne pensate questo reggione mi è colpito fin dall'inizio mi potete salutare se potete salutare allora in teoria voi non dovreste leggere tutti i commenti ah non andavo con me cioè nel senso me li dovevo filtrare perché se è così c'è qualcuno che vi spoilerà ah giusto se c'è qualcosa che ci spoilerà come vi sentite? come ci sentiamo? vai fede tu sei molto più brava a parlare io non so parlare siamo a ridosso però si manca poco io mi sento carica e quindi non è riconvincente no si sto carica un sacco di cose non so un sacco di sensazioni comunque non è da da tanti stare qui in casetta siamo rimasti in pochissimi e quindi come state adesso che siete soli? in tre in casetta in tre si sta bene sta bene? si stavamo meglio in sei con Cosimo Vittorio e Michele no però abbiamo un bel rapporto siamo i tre porcellini chi è il più disordinato? io tu sei la più disordinata? si davvero Federica è la peggiore se tu vai in camera sua che praticamente ha il monopoli di una camera intera si perché quella era la mia camera vecchia solo che poi sono state eliminati tutti e mi sono trasferita da loro e lì c'è il casino ma il fatto quindi tu dormi di qua ma tutto il casino lo lasci nell'altra ma il fatto è che sono loro che sono troppo ordinati non mi sono disordinata quali altri aspetti avete scoperto divertenti degli altri vivendo assieme convivendo? cosa non ho capito quali altri aspetti avete scoperto degli altri? allora Fede si è disordinata è tremenda è una che quando mangia devi fare le pappette per cui non col cibo si mette lì e gioco si poi mangia tutto però gioco e no cosa che posso dire che ah sì io ne ho scoperto di Fede che poi è tanto dolce che in realtà in Sala Relax non sembrava va vero si non sembrava è tanto buono e tanto dolce si anche io ho scoperto di Ricky che è dolce e non lo sapevo si e invece Andre magari lo conoscevo di più che è lo conoscevo di più e un po' di più e vabbè lui la cosa che ho notato di più è che si prende tanto alle cose se le tiene molto dentro no? e quindi se va male qualcosa una lezione lui ha il posto magari di vivere di esternarlo e se lo tiene dentro il problema è che diventa un po' troppo silenzioso per tutta la settimana allora va un po' sopportato bisogna un po' riuscire a tirarlo su di morale sì solo a lui solo a lui e vabbè tu sei sempre perfetta no non sono sempre perfetta lo sai che ce la vuoi anche in un momento così e così però tu e Andre parlavano di te ormai miseria sì vabbè a volte dipende sì perché altro tipo torni da lezione consentissima e loro stanno su tutti siamo depressi tutta la giornata non è facile sincronizzare però è come il film chat guida una caramella e allora non mi troviamo così questa è una coccolusa e stai una canzone canzone preferita vai Fede la canzone preferita io l'ho detto l'altro giorno sulla chat Vodafone visto che non ascolto musica visto che non ascolti musica visto che non ascolto musica in questo periodo la mia preferita è Cherry Blossom di Paul Lutini comunque ci sono un sacco di domande interessanti tipo manca poco all'uscita delle cose siete contenti eh certo insomma ci sono un sacco di domande interessanti avremo sicuramente il tempo per farle altre in un altro momento perché innanzitutto non c'è Andreas quindi magari ci ricolleghiamo quando c'è anche lui così possiamo dare la possibilità anche a lui riparlare coi ragazzi intanto salutiamo perché è una questione di pari di pari opportunità tra bianchi e blu non ci si pensa più non ci si pensa più ciao e con Ponsis siamo tutti più amici ma tanto più amici ma tanto più amici ciao